Musica E' scaduto oggi il bando della mucchi volto all'individuazione di un'oppio ipotesi di rafforzamento aziendale e di evoluzione possibile del capitale sociale. Nessuna certezza al momento sulle proposte presentate, eccetto per quella di fusione avanzata dalla centrale del latte di Torino, alla luce di quanto la società piemontese ha comunicato, dicendo di aver predisposto uno schema di progetto non vincolante di possibile integrazione industriale tra i due gruppi. Sull'argomento il sindaco di Firenze Nardella ha ribadito quanto già affermato in precedenti occasioni. Come ho già detto, ha affermato per Granarolo anche nel caso della centrale del latte di Torino, per altri soggetti privati, noi siamo ben contenti del fatto che vi sia un interesse su una realtà produttiva come la mucchi. Detto questo, torno a dire che noi non svendiamo, per noi, a concluso, restano centrali i famosi tre paletti, il progetto industriale di crescita, la salvaguardia dei lavoratori e dello stabilimento di Firenze, la valorizzazione e la tutela della filiera produttiva del Mugello che sono alla base della qualità del nostro prodotto. Novità societaria per la drogheria e alimentari, azienda italiana leader nel settore delle spezie, la famiglia Carapelli Barbaglia è infatti ceduto al gruppo McCormick, il settore delle spezie che andrà quindi a impreziosire una delle catene più importanti nel settore a livello mondiale. Per lo stabilimento presente in Mugello, in provincia di Firenze, è previsto uno sviluppo per rispondere alle esigenze del nuovo gruppo. In mano alle famiglie Carapelli Barbagli resta invece la parte di azienda che produce sughi e prodotti bio. Era palpabile stamattina la gioia di amministratori, tecnici e cittadini che in riva al lago di Londa, in provincia di Firenze, stavano aspettando l'esecuzione del provvedimento di dissequestro del lago, un provvedimento deciso dal Tribunale del Riesame. Sono molto contento stamattina perché mi è stato notificato il provvedimento di dissequestro del lago. Ho sempre dichiarato che avevo fiducia alla magistratura e questa fiducia è stata ben riposta perché la magistratura giustamente ha riconosciuto con il dissequestro che i lavori erano stati fatti per bene, come è sempre pensato di aver fatto. L'amministrazione adesso ha avanzato una precisa richiesta. Noi con i nostri avvocati oggi abbiamo chiesto non solamente di restituirci il lago e quindi così com'è, ma anche, e l'abbiamo fatta a verbale, abbiamo chiesto che ci svasassero il lago e ci lasciassero nelle stesse condizioni in cui era stato in qualche modo preso. Quando l'hanno preso era vuoto, c'era solamente dei terreni da portare via e noi stavamo per portarli via. Quindi è stato bloccato un'opera pubblica importantissima per il nostro comune. Parte il 21 febbraio da Firenze il progetto sull'integrazione della Federazione Italiana Gioco Calcio, Razzisti, una brutta razza. 20 tappe, una in ogni regione, finalizzato a combattere il male sociale del razzismo e della discriminazione nel mondo del pallone, sensibilizzando i giovani calciatori. È una singola iniziativa, è un percorso didattico che parte da Firenze domani e proseguirà per le altre 19 regioni italiane. Vogliamo spiegare ai nostri ragazzi, ai ragazzi del settore giovanile scolastico, quindi delle scuole calcio, che l'integrazione, il calcio è il primo fenomeno, è il primo mezzo di integrazione delle persone. La cosa è molto importante, è la mia idea per puntare verso i giovani perché loro sono la nostra generazione anche per educare in modo, il linguaggio di loro, molto divertente ma anche allo stesso tempo per riflettere e anche imparare tante altre cose che è la vita, non il sopravincere, siamo tutti uguali. Basta guardarsi intorno, vivere nelle città dei nostri tempi per capire che non c'è bisogno, non ci dovrebbe essere bisogno di ribadire che siamo tutti uguali indipendentemente dal colore della pelle, dall'etnia, dalla religione professata. Purtroppo vari episodi hanno portato a questa necessità e quindi è un bene assolutamente positivo che la Federazione Italiana Gioco Calcio abbia scelto di mettere in piedi un'iniziativa che affronti di petto la questione e che l'abbia fatto affidandosi anche a un testimone ad eccezione, un testimone che con le sue imprese sportive per l'appunto anche lontane dal mondo del calcio ha trasmesso a tutti gli italiani l'idea che si può essere italiani e siamo italiani indipendentemente appunto dal colore della nostra pelle.